Ancora passi avanti verso la realizzazione della pista ciclabile Fanno Finile, un'opera molto attesa e richiesta da anni da residenti della frazione. L'infrastruttura di circa 2.900 metri ha subito diversi ritardi. Inizialmente perché i tecnici della provincia, incaricati dei lavori, erano impegnati in altri interventi urgenti e prioritari. Poi perché l'intervento è stato bloccato a causa di un ricorso al TAR rappresentato dal conte Castruccio Castracane degli Antelminelli, proprietario di un terreno vicino al ponte sull'autostrada. Secondo il privato, infatti, il progetto sarebbe lesivo della sua proprietà. La situazione non è ancora risolta, ma i cittadini continuano a chiedere a gran voce il completamento della pista per renderla più sicura. Sulle ciclabili, ha ribadito l'assessore Cristian Fanesi, l'amministrazione crede molto e spera che l'opera si possa terminare nel più breve tempo possibile. Per questo motivo il Comune, con una delibera di giunta, ha stanziato un'ulteriore somma per ultimare il tratto interessato. In collaborazione con la provincia abbiamo destinato 90 mila euro per chiudere i lavori, per finirli, in maniera tale che si possa mettere in sicurezza l'unico tratto che in questo momento risulta non ancora concluso, che è quello sopra il cavalcavia dell'A14. Il Comune di Fano ha già stanziato 90 mila euro a seguito di un progetto fatto dalla provincia di Pesorurbino per poter finire questo tratto e poter arrivare alla conclusione decente di una pista ciclabile molto importante, la cui gestazione è stata piuttosto lunga, ma a cui noi crediamo tantissimo. Alcune cose già si vedono, il guardrail, l'impianto semaforico, ovviamente manca quel tratto e noi ci impegniamo, come ci siamo già impegnati di fronte ai cittadini del fenile, a chiuderla, a finirla, a completarla nel più breve tempo possibile.